Ok, eccoci qui, sta registrando? Ok, cominciamo a fare questo video, ora pomeriggio, vi voglio bene, seguitemi, come vedete, fate i bravi, io comando io, sapete voi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, bello a tutti i ragazzi, un like volete, io facevo sempre i video con la mia famiglia, quelle altre persone di quegli altri canali, devono stare zitti, perché parlano? Sono scemi, io le facevo sempre con la mia famiglia, i video qua a casa o sopra o fuori o in giro, che comandano loro, comando io quello che faccio, non è che prendono i video e parlano male di me, e fanno ancora così, vado a loro casa e gli faccio il culo tanto, Vi voglio bene, fate i bravi e facciamo questo video e dopo vado e mi riposo sopra, che mia mamma, mia nonna e mio papà li voglio bene e io sto dove voglio, non comandano loro, comando io e sono il numero uno, sono il dio di youtube, sono una leggenda, sono famoso, sono uno youtuber e capisco prima di loro, Loro non sanno parlare, io sì, e sbaglio, mi corrego da solo, faccio questo video, ho detto iscrivetevi al canale, trovate la campanella, bello a tutti i ragazzi, sono qua, la mia famiglia dorme, Ora questo video lo faccio qua, dopo la prossima le faccio in un'altra parte, così non pensano quegli altri canali, tutti i scemi, rompono i scatoli a me, e quelli, boh, saluto a Paolo, a Silvia, a Claudia, a Gloria, a Silvia, Mary e Jennifer, con la Tama con la J, Luce del Nord, Anna con la X, Venite a faccia a faccia e parlate quello che dite di quegli altri video che mi rubate, avete paura? Io non ho paura, voi avete paura, io sono grande, ho 29 anni, io sto dove voglio, che io sono bravo, gentile, voglio ridere, porto video di tutti i tipi, che comandate? Belli miei, fate la vostra vita, o andate, buttatevi a mare, fatevi un bagno, mi dissocio YouTube, mi dissocio raga, mi scuso, perdonatemi, non è un video che dico cose strane, i parolacci, i bestemmi non le dico mai, quell'altro canale le dicono, Anche quando commentavano, in tante parte a me, i bestemmi, le persone, no io, io sono gentile, io saluto tutte le persone, e niente, facciamo questo video ora qua, in cucina Sono con i padroni, quelli, la moda e la camicia E niente, mettiamo pause e andiamo nella mia stanza, dai Baci, fate i bravi Devo fare un video che parlo di quell'altro canale, che devo dire cose strane, così la smettono, o faccio una diretta? Devo vedere prima, devo pensare, dai Ancora devo trovare una bella fidanzata, e così Verremo che dicono quell'altro canale Quello che comincia con la S e quell'altro, sapete voi, arrivo, andiamo, dai E tra poco apri il cellulare, all'una o i due, quando tana o quando cala Andiamo nella mia stanza e facciamo tutto, dai Metto pausa e non voglio camminare Dove metto un radio alla mia famiglia E niente, ho fatto tanta barba e ora sta crescendo Dopo facciamo un video con la barba, dai Ancora sta camminando, non ho messo pausa Ok raga, ho preso il parlante e facciamo tutto, dai Raga, volete cantare una canzone? Non so cantare, canto lo stesso Quello che fanno il rap fanno con la bocca un rumuro, e non lo so fare, ho fatto così io Perché questo bastone dei selfie cala per sotto, vabbè Io non so parlare d'amore e la superania è Vabbè cantiamo quello che canto io sempre Amare non durvete, e nette la humare, e nette l'u canneet, di cala no chieda aspettate metto pauza che questo bastone di se liisses io notano e cala solo ma devo comprare un uomo la prima solo dei seri costa di meno ok ho cambiato la voce faccio la voce della mafia raga perché non la smettono i scemi voglio dire perché non la smettono i scemi in quell'altro canale avete visto avete visto la voce prova questo è normale sono qua ok raga cantiamo ancora e possiamo il bastone no il bastone dei selfie questo qua è parlante voglio dire voglio fare uno scherzo a quelli scemi tutti scemi quell'altro canale hanno le corna e niente io voglio bene le persone che mi vogliono bene john zina io io menenzini ricordatevi che io sono il vostro youtuber perverito sono la vostra leggenda e famoso ricordatevi sempre di me lascia morire andiamo avanti prova prova io non so che amore mio ti amo da pazzire mi manchi ah raga ora canto una canzone io mi dissocio raga io mi dissocio le persone sono scemi su youtube di quelli canali io sono un re sono famoso sono un nuovo youtuber io capisco prima di loro loro sono scemi perché che si devono vergognare smettetela a rompere le scatole a me io sono il numero uno e mi seguono tutti io mi dissocio mi dissocio e mi dissocio di quelle persone non capiscono una miseria io sono il migliore e mi vogliono bene a me ciao raga ciao raga io mi dissocio mi dissocio john zina io io menenzini vabbè io mi scuse perdonatemi questo video e lo prendono loro non so che dicono io me ne prego vado avanti io sono contento voglio ridere qua sotto trovate la lista di amazon io la metto lo stesso e la devo aggiustare ora vengo prendo la maschera quelle due quella la bianca e l'altra che si duma la lampadina aspettate che arrivo metto pausa che non voglio far lungo questo video lo faccio così ok bastone sempre si cala io lottano per superi cala per sub vabbè ok raga eccoci qui con la maschera la conoscete ciao raga bella aspettate ciao raga ciao raga questo è con la batteria ciao raga questo è con la batteria sta registrando ok possiamo questa e andiamo avanti raga ricordatevi che qua il telefono ora lo apro quando calo un pochino sono già i due ora quando cala lo apro io il ricordo che o all'una o i due quando ottana o quando cala lo aprivo anche sempre alle quattro quando ottonava e quando calava mi viene e mi dissociano lo dico mettete mi piace iscrivetevi al canale attraverso la campanella bello a tutti i ragazzi e seguitemi lo stesso che io sono un bravo ragazzo e un bravo uomo e faccio sempre i lavori raga perché non commentate voi o fate qualcosa così la smettono quell'altro canale quello la con la quello che comincia con la s e quell'altro sapete voi chi parlo io che sono tutti scemi sapete che loro hanno le corna io sono il dio di youtube e sono famoso sono una leggenda sono uno youtuber e loro che sono solo gli haters boh io me ne frego io sono contento e faccio i video per voi metto pause e andiamo in giro qua vicino in motorina elettrico senza targa a ok dai andiamo ok eccoci qui avete visto i pantaloni amici volete mi chiamate ditemi una app così me la scarico così voi mi chiamate lì Imo gratuita mi ricordo che aveva anche sul telefono quella app la Imo gratuito è un'app che puoi chiamare un'altra l'avevo e la trovo su play store me la scarico così e voi ce l'avete o non avete avete pro zappo o le chiamate normale come volete vorrà io sono qua boh ho cantato ho mostrato quelle due mascherine le maschere è la prima maschera quello con le batterie che tocchi un bottone d'umore a lampanina quella me l'hanno regalata tanto passato anni questa acqua bianca me l'hanno regalata vabbè sentite la tosse io sono solo qua e ora non so vado in riposo o vado al lavoro così me ne frego di quelli loro dicono che io non lavoro non faccio niente che dite voi siete scemi voi non fate niente io lavoro io l'hanno tanto tagliavo in linea zappava terra anche ora zappava terra con il sapone e pianto pomodoro patate cipote eccetera eccetera anche mi mangio i fracoli i banani i frutta a puma birra o muluni io le dico come mi esce noi siamo di morta san juan in provincia di reggio calabria io ho 29 anni noi siamo italiani calabrese il dialetto noi il nostro paese è il numero uno e voi siete zero non valete niente fate i bravi e ci vediamo alla prossima io chiudo il video così beh raga un saluto e un abbraccio a voi iscrivetevi al canale a te per campanella bello a tutti i ragazzi un like seguitemi e quando vedete ciao belli e fate i bravi state con me raga non le sentite quell'altro canale che io sono solo non è che sto con la mia famiglia ma che sono scemi io le voglio bene a mia mamma e mio papà e mia nonna voi non sapete niente e volete venire a casa vostra e avete guai e non la smettete ciao belli facciamo un sorriso stop bullismo stop violenza sulle donne e non trattate male gli animali smettetela uomini e trattate le donne male e le ragazze smettetela stop bullismo stop violenza sulle donne andiamo che sento adus for qualcuno ciao belli Baci Ciao ciao